ragazzi possiamo anche noi un pallino con la nutella no no mi dispiace è nostra dai ragazze però stiamo morando di fame io e gaia no mi piace poco la nutella è vero luli se vuoi c'è un po di pane senza nutella oppure una crostatina però è bicocca dai e dai ragazze però siete molto cattive c'è noi siamo le basse cucinette no tu sei mia sorella sì vabbè però guarda come se lo mangiano mi sta venendo va anche a me perché c'è questo cappello no non lo sapevo abbiamo un po di pane andate via non c'è allora a fare il mio il pane c'è e la tutela c'è quindi ora non è vero si basta andare via se no vede un cucchiaio in testa buono vero siete antipaticissime ciao ciao perché non va aiuto ah io ho fatto parliamo no oh mamma mia ragazzi possiamo anche noi un pagino con la nutella certo grazie ragazze allora ehm ora ci pensi tu sì sì ci penso io eh sì guarda quanta nutella che buono come siete carine grazie ehm e io metto le tavolette questa è per cari questa tieni Gaia grazie e a me scusate sì te lo facciamo ok grazie Ludo io metto il zucco ah 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 la merenda è bella quando è condivisa ok ok ah perché non si era capito molto bene la merenda è bella quando è confinta potremmo avere anche noi un succo? eh sì certamente vai eh ne è rimasto solo uno vado a prendere l'altro pacco grazie Greta grazie Greta che carine che siete oh grazie dopo giochiamo tutti insieme? lo fa più ah 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 la merenda è più buona se è condivisa eh dai Rubi li passiamoci abbiamo Teddy no Teddy 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 ah dai li passiamoci Teddy va perché è un Teddy Teddy Che bello, possiamo riposare con voi? No, no, c'è poco spazio Bene, 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 bene E lì dove c'è spazio? Il nostro, il letto è nostro Allora, o vi togliete Oppure vi togliamo noi No Lì dobbiamo mettere i piedi Non ci potete stare voi Dai ragazze però, che cavolo Toglietevi, dobbiamo dormire noi ora No, no Mi piace, adesso ci siamo noi Ciao Che ultima neva ma d'arroggia Scusami un secondo, da dove impari queste frasi a Lucchi Che arriva ultimo, non mi ricordo cos'è Ma le alloggia Esatto Ludovica, da dove le impari? Siamo più intelligenti di voi Ok, toglietevi No Toglietevi No No Vabbè, pazienza Vi accontentate così Dai ragazze No Questo è il nostro posto Fuori dal nostro letto Andate sul divano Ok, ok, ok Andate, 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 andate Andate, andate Muoviti No Scappa No Tu mi hai detto Quec'è Che don Yes Andiamo, dai, dormiamo Abbiamo fatto tutto questo lavoro oggi Io ho mangiato pure il panno con l'anchella Dai dormiamo Buonanotte Anzi bufoglige Stendi 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 Mettelo in mezzo Stai dormiamo Diboriamoci Perché sennò dopo siamo scariche Ragazze Possiamo riposare con voi perché abbiamo un po' di sonno Certo Guarda quanto spazio c'è Dai venite Ok bene Toglimi le Alleluia Ciao 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 Mi stai percciacciando Mi stai percciacciando come un pomodoro Io sto comodissima E io dove vado Eccoci Sapete cosa vi dico? Io mi metto qua Mi sto chiesto No Eccoci sono fatto Vogliamo stare vicino a te Dai vieni Gaia Ok venite allora Ciao amore Ciao 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 Gaia No Gaia Gaia Vai Scegliamo 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 Suoni Vai Questa quale? Quale? Questa? Vai Ok Ok vai Ragazzi Possiamo fare anche noi TikTok? Tiktok No No perché TikTok è una cosa da grandi e... Non si può Esatto Andate via Via Dai Llorica vai via No vi dispiace siete piccoline e TikTok non le sapete fare Sì guarda Mi fai biciclo No 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 via No no via via Non ci hai convinto affatto Via Dai vi prego No 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 basta E andate via Ci avete anche interrotto il TikTok Via 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 Anche tu Greta Via 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 Dai Voi due siete due piccole mociosette e non sapete fare i TikTok Allora voi non sapete giocare Voi non sapete ballare Voi non sapete giocare, non sapete mangiare e non sapete dormire Vimba vai via Via Andate via Fuori da questa stanza Tanto noi ci hanno gli occhi azzurri e noi ci hanno gli occhi color cacca Almeno i colori e gli occhi marroni sono uguali a quelli della Nutella No non è quello Nutella, è quello del cacca E infatti questo pantalone nero è il suo peperino nero Come questo Ciao ciao Vengo le mociosette Sì Gaia facciamo un TikTok? Vai Ragazze possiamo fare anche noi TikTok? Ma certo ragazzi venite Vieni Aspetta ma tengo il cellulare così ci vediamo tutte Pronti? Sì Vai Ragazze grazie possiamo colorare con voi no andate via uffi no stiamo studiando basta via via ma no dai cosa andate via andate via colorare 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 no basta andate via allora noi vi facciamo studiare andate via ma basta invece dovete rompere le scatole anche voi prima prima nel letto si va bene su via circolare circolare via allora quanti compiti abbiamo basta così divento più intelligente il trattato di parte dico tutti non è vero non è così quando tipo la roba ci fa una domanda mettiamo così si io sto a rispondere a tutte le domande guardi io basco e leggo e so tutto mi entra tutto nel cervello e su dirle tutto sai gaia io io faccio così a verona quando devo studiare e mentre tutto nel cervello se magari ragazze possiamo colorare colorare con voi ok va bene ok su prendete dei colorati vieni Lulù questo è per te questo è per te bene colorate su e ci sono anche questi qua e anche questi qua se volete questi servono perfetto io e Gaia sfidiamo potete usare tutti quanti i colori che volete bene ora io però devo rispondere a queste domande noi correghiamo eh già io sto facendo arte a me mi serve proprio il densiatore il mio preferito che bello questo colore è proprio perfetto per me va bene ragazzi il video finisce qui noi vi salutiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto e e ragazzi questo succede quando hai delle cucinette piccole e grandi e scriviti giù nei commenti quale sketch diciamo quale scena vi è piaciuta di più va bene questo è pazzo io ti vedete ti lascio la campanellina e lasciate i pollicioni in in zoom fate o è cha ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.